Cosa è possibile fare con le foglie di fico? L'albero di fico, sin dai tempi della storia, è un albero sacro. Un albero della longevità, della saggezza e del collegamento con la parte di vena dentro di noi. Se noi andiamo a raccogliere delle foglie di fico, le andiamo a essiccare e lasciamo al sole e il vento, l'importante è che siano bene secche, oppure le mettiamo in una stanza al buio per qualche giorno una volta essiccate, le possiamo sbriciolare, le mettiamo in un piattino e poi le possiamo travasare. Ho creato proprio dei pacchettini dove all'interno ci sono 250 g di foglie essicate che sono davvero buonissime per la tisana. Se volete avevo creato un video apposta per fare la tisana con le foglie di fico e poi un'altra cosa che possiamo fare con la foglia di fico prendiamo il primo pezzo della foglia di fico, prendiamo il gambo, lo possiamo o dividere a metà oppure incidere verticalmente e lo possiamo immergere nel latte per farci la ricotta con il latte di fico. All'interno del latte c'è la caseina che dà proprio questo principio attivo a contatto con il latte, il formaggio. È davvero squisito. Ho creato una base di biscotti con il burro, poi ho messo la ricotta e sopra la marmellata, ho messo la marmellata di fichi con sopra i fichi seccati oppure la marmellata di prugnoli gialli ed è venuta davvero divina. Lo consiglio a tutti. Qualcuno mi ha detto che ha provato a farlo ma con la pianta di fichi quelli gialli, quelli chiari. Quelli chiari viene amaro. Il consiglio è utilizzare quelli che sono magari dei fichi, quelli piccolini, però della pianta di fichi fioroni, quelli scuri. E non viene assolutamente amara, anzi se potete avere nello stampo, se avete uno stampo della ricotta che magari avete acquistato da qualche altra parte, quella da un chilo, potete mettere le foglie di fico e sopra il formaggio la ricotta. Così una volta che dopo il liquido, una volta che la ricotta comunque si sarà asciutta tutta bene, la ricotta, il formaggio prenderà la profumazione delle foglie di fico. È davvero buonissima, consiglio a tutti. Quindi non soltanto una marmellata, si può fare con i fichi e lo zucchero e il limone, ma anche la ricotta e delle tisane davvero molto buone per il nostro benessere psicofisico. Se avete altre ricette le potete condividere qua sotto o lasciarmelo scritto nei commenti. A presto Elisa!